Come si fa un provino con Tito Bras? Ti chiede di spogliarti o...? Sì, lui mi aveva fatto vestire con degli indumenti intimi, con delle cose molto trasparenti. Infatti devo dire che sto vivendo questa cosa con molta incoscienza, non me ne rendo assolutamente conto, perché, non lo so, per me è così, è naturale, non è naturale nel senso che me l'aspettavo, ma è naturale nel senso che proprio non me ne rendo conto.